Ad attendere il presidente della FIDAL sull'Inguomale di San Giorgio di Giosamarea, oltre alla famiglia Strino, anche il professore Salvatore Coletta, allenatore e grande amico della Sidoti. Il professore Gaspare Polizzi, presidente FIDAL Sicilia, e il presidente provinciale della FIDAL Andrea D'Adrea. Il dottor Pietro Strino, marito di Anna Rita Sidoti, ha presentato al presidente Gioomi i tre piccoli figli di Anna Rita, Federico, Edoardo e Alberto. Strino ha illustrato a Gioomi l'iter che l'amministrazione comunale di Giosamarea sta seguendo per l'inter intitolazione del lungomare alla moglie. Siamo stati insieme 28 anni, una donna splendida, una donna eccezionale, una mamma fantastica, un'atleta unica per i suoi splendidi e unici traguardi che ha raggiunto. Questo dovrebbe essere il lungomare Anna Rita Sidoti, ci sono state un pochino di resistenze di tipo burocratico comunque, ultimamente per l'intitolazione ci dovrebbe essere anche una statua, perché? Sono passati dieci anni però, insomma. Tra l'altro in questo periodo ho dovuto raccogliere della documentazione da presentare e devo dire che l'ho fatto con molto piacere ma nello stesso tempo è stata per me una grande sofferenza dover rivedere tanti documenti, tanti atti che documentavano la presenza di Anna Rita sia sul sociale, sia in ambito sportivo, sia in ambito politico. Sull'intitolazione del lungomare di San Giorgio di Giosamarea alla Sidoti è intervenuto anche lo storico allenatore di Anna Rita, il professore Salvatore Coletta. Nel lungomare c'è anche l'intitolazione della scuola ma anche in questo sono lenti, è una cosa strana, è come se voressero documenti per dire che è stata benemerita, una che è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica e che riceve messaggi, che ha scritto pagine indelebili come se fosse una che deve ancora dopo la morte dimostrare quello che ha fatto. L'Italia è strana.